Buonasera e ben ritrovati con direttanti per dire una puntata un pochettino più ridotta rispetto al solito visto lo speciale elettorale insieme a noi quindi un solo ospite questa sera un ospite importante, il collega e amico Fabrizio De Leonardi, ciao Fabrizio Un cordiale saluto a te, un cordiale saluto agli amici a casa Una domenica che ha portato in serie D dei buoni risultati con la vittoria del Novara sabato domenica, la vittoria del Gozzano e il punto del Borgo Sesia che sicuramente un po' di rammarico l'ha lasciato perché quando subisci il gol al 94 un po' non vai a dormire sereno diciamo così No, dovresti chiederlo visto che sei Juventino i tifosi del Toro Sono abituati Loro sono abituati a prendere gol all'ultimo minuto Sì, adesso al di là delle battute comunque è stato un weekend abbastanza interessante e comunque propizio per le squadre che noi seguiamo Anche perché Fabrizio nelle prime due giornate in sei partite non c'erano state vittorie delle nostre No, assolutamente Invece adesso sono arrivati due su tre perché l'RG Ticino, anzi tre su quattro, due su quattro cioè due vittorie e due pareggi perché l'RG Ticino ha conquistato un punto importante il secondo consecutivo in trasferta A Saluzzo che non è mai un campo facile e poi anche il Borgosesia non aveva una partita facile neanche noi con il Ligorna che al fischio d'inizio era capolista e che comunque a Gozzano aveva anche una tradizione positiva non tanto per il risultato quanto per gli eventi Vorrei ricordare che l'ultima volta che i Liguri sono scesi sul prato del stadio Marchese Alfredo d'Albertas si sono salvati e si sono salvati in una maniera un po' rocambolesca lo ricordavo al loro presidente Finisce la partita, non c'è ancora, è l'ultima giornata, non c'è ancora il finale di Vado Loro hanno perso 6 a 3 contro il Gozzano Esordio vincente con 3 gol di Zerbin E siamo stati per 10 lunghi minuti ad attendere Poi ho ricevuto io sul cellulare il messaggio da Vado L'ho comunicato per alto parlante, ormai eravamo rimasti solo noi giocatori del Vado che erano lì a metà campo e non sapevano se ridere e se piangere E poi l'esplosione di gioia è un gesto che voglio ricordare per quello che ho fatto tutta questa filastrocca perché il nostro patron di allora, Alberto Alesina ha offerto due magnum ai giocatori del Ligorna Dibattiamo sì, ma se vi salvate alla fine è un'ennesima dimostrazione di quel gran signore che era Alberto Petacchine le chiamava, no? Sì, esatto Mi ricordo Petacchine le chiamava quando si andava a cena Però era un brillante, non è da tutti Lui si è fermato, è stato uno dei pochi ad attendere con trepidazione quel risultato E quindi tradizione favorevole per il Gozzano ma tradizione favorevole per l'esito anche per il Ligorna Sabato è stata tradizione favorevole e rispettata per il Gozzano che ha vinto e direi meritatamente Ha vinto anche il Novara, Fabrizio è l'ultimo respiro il calcio ti dà, il calcio ti toglie Uno scontro che qualche anno fa, solo qualche anno fa veniva disputato in cadetteria e con una lunga tradizione in cadetteria All'ultimo respiro il Novara ha messo la zampata vincente Adesso ci tocca a noi però il Varese Mercoledì perché c'è turno di settimanale Saranno belli avvelenati Allora vediamo questo successo 2-1 in rimonta all'ultimo secondo del Novara Il gol all'ultimo respiro sotto la curva azzurra per decidere un derby che a un quarto d'ora dalla fine vedeva il Varese segnare la rete del vantaggio Meglio di così la nuova società non poteva sognare la prima storica vittoria in Serie D dopo due pareggi consecutivi e probabilmente nella partita più complicata ed equilibrata delle tre giornate disputate Un match per la verità persino un po' troppo bloccato e spezzettato anche dai troppi fischi dell'arbitro che ha visto meglio il Novara nel primo tempo vicino al goda sedicesimo quando González premia il taglio di Butai e l'albanese inventa un esterno sinistro sul secondo palo che meritava miglior fortuna e quando al ventisettesimo è lo stesso González a sbattere sulla traversa con il suo prodigioso sinistro il Varese controlla e punzecchia ma produce poco al trentaduesimo Foschiani testa i riflessi del porterino classe 2000 Raspa González è un ispiratore a tutto campo e quando può finalizza così nel finale di primo tempo prova anche il suo di nuovo il sinistro con Priori che assorbe senza incertezze nella ripresa in Novara rallenta ulteriormente il Varese sorgnone sembra stare al gioco ma sono proprio Biancorossi a far saltare il tappo al derby facendo le prove generali alla mezz'ora quando Mamà pesca Foschiani al limite e giù il suo sinistro velenoso imbarazza per un attimo Raspa che se la cava in due tempi poi la volta di Pastore ad impegnare Raspa con la seconda palla che vede Tosi impappinarsi sul più bello ma due minuti dopo i 150 Biancorossi assaporano il gusto dolce del successo quando dalla bandierina gli uomini di Rossi muovono palla per poi pescare Premoli a centroarea libero di indirezzare quel tanto che basta 1-0 per il Varese tutto finito? ma che? siamo ai primi giri di Giostra il biglietto verso il Paradiso lo regala lo stesso Varese che sbaglia l'uscita alta in contropiede regalando al subentrato Capano il contro-contropiede il quale fugge in contrastato tocca centrale per Gonzalez che ancora una volta illumina di prima mettendo Vutai davanti alla porta il bomber non si fa pregare scarica di rabbia l'1-1 e vola sotto la nord a questo punto il Lovara punto nell'orgoglio ci crede e ci prova e fa bene perché proprio all'ultimo respiro il genio di Paolo Gonzalez vede e premia il taglio alle spalle di Di Masi che è freddissimo a mettere in porta col destro gioco, partita, incontro cosa può dare questo successo così a Novara Fabrizio? consapevolezza, entusiasmo? sicuramente sì entusiasmo che è la cosa più importante anche perché sai dopo gli eventi di quest'estate l'ambiente era abbastanza depresso quindi questo risultato può dare sprint a una realtà calcistica che sicuramente come Varese del resto non merita questa categoria però ci sono passati anche altri prima di loro l'Alessandria addirittura è ripartita dall'eccellenza e ha fatto due anni in eccellenza per cui il boccone è amaro da digerire ma bisogna digerirlo e l'entusiasmo aiuta sono 2.300-2.800 gli abbonati dei prezzi popolarissimi perché l'abbonamento costava 10 euro ma è una strategia è una strategia per cercare di accattivare le simpatie dei tifosi non so quanto possa essere a gioco lungo rettitizia però in questo momento forse è la strategia che paga sì perché io mi metto sempre nel pane del tifoso quest'anno paga l'abbonamento 10 euro qualche mio amico l'ha fatto anche a Omenia però l'anno prossimo quando verosimilmente costerà la cifra normale 100 euro da 10 a 100 euro è 10 volte tanto purtroppo si ragiona così questa è la verità la moda di questo tipo di abbonamenti era stata inaugurata nei primi anni 90 da Preziosi l'attuale presidente del Genoa quando era a Saronno solo che lì era una strategia particolare a Saronno non ci andava tantissima gente vicino a Milano insomma giocano sempre in casa o Milano e Inter domenica tra l'altro è stata l'unica volta nella storia in cui non c'è stata l'alternanza erano entrambi in trasferta quindi per accattivare la simpatia e poi si giocava tutti alle tre non c'erano anticipi ecco allora a quel punto non c'erano le differite la cosa poteva pagare anche se quegli abbonamenti erano sponsorizzati e se non ricordo male non erano veri e propri abbonamenti ma dei passi insomma una strategia a livello fiscale un po' furba poi l'aveva replicata con un vero e proprio l'allenamento a Como anche quando era passato a Como a Borgomanero è stato il primo Erbetta che ha avuto questo tipo di intuizione di strategia l'ha proposto nei dilettanti e ha avuto anche successo ai primi anni 2000 euro 2000 abbonamenti aveva fatto a 10 euro allora l'intervista ai due allenatori dopo questo 2 a 1 del Novara in questo momento chiaro che c'è rabbia perdere una partita così al 95esimo sicuramente lascia l'amaro in bocca è stata una partita due volte secondo me nel primo tempo hanno fatto meglio loro e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio noi e poi purtroppo due ingenuità ci sono costate molto care una in uscita nel momento in cui eravamo in 10 uomini abbiamo perso palla in uscita è stato bravo poi per carità il Novara a sfruttarla al meglio e poi questo qua finale è stata proprio una beffa due squadre che giocavano un po' a specchio quindi era difficile trovare gli spazi giusti loro ne hanno avuto un paio nel primo tempo una su punizione l'altra l'occasione di Vutai noi ne abbiamo avuto un paio prima di fare gol quindi era una partita equilibrata combattuta dove gli episodi giusti fatti nel modo giusto sbagliati sapevamo che potevano determinare la partita purtroppo c'era ammarico perché la prestazione sicuramente non meritavano di perdere per la prestazione che abbiamo fatto però andiamo avanti alziamo la testa mercoledì c'è già un'altra partita e dobbiamo portare in campo quella rabbia che in questo momento c'è nello spogliatoio per budget io credo per quanto ne sento sento le voci in giro Casale, Novara e Sanremese hanno fatto delle squadre importanti con giocatori di categorie superiori noi abbiamo cercato di puntare molto su ragazzi anche giovani cercheremo di dire la nostra però è presto io credo che a fine mese si può avere una prima idea visto che giochiamo sette partite in un mese di quello che potrà essere il campionato non solo per noi ma per tutti ma io credo che non ho visto loro molto meglio di noi nel senso l'ho visto forse con un po' più di intensità forse quello ci manca però credo che piano piano la forma fisica può salire deve salire e deve migliorare perché poi quando incontri grandi squadre è l'intensità che fa la differenza noi forse dopo il gol dopo il primo gol inconsciamente abbiamo tirato veramente tutto quello che avevamo dentro la squadra al primo tempo abbia provato a far qualcosa diciamo il secondo tempo l'inizio del secondo tempo non è stato brillante perché non so se è un aspetto fisico o di gestione di palla ma non siamo stati bravi a continuare sulla falsa riga del primo tempo poi è arrivato il loro gol e credo che poi con i cambi credo che la squadra abbia trovato un po' più di fiducia abbia trovato quella spinta che poi serviva per provare a vincere la partita insomma quando si fanno dei cambi si valuta la partita si valuta l'insieme perché altrimenti sarebbe troppo facile guardare un singolo giocatore io che devo guardare la squadra quello di cui ha bisogno a volte mi va bene a volte mi va male però io cerco sempre di fare le scelte in base a quello che vedo durante la partita poi è normale che gli episodi ci sono andati a favore e siano contenti perché essendo me era importante iniziare a vincere contro una grande squadra perché ti fa crescere l'autostima ti fa crescere la consapevolezza che comunque noi abbiamo un unico obiettivo che è vincere tutte le partite partirei da questa frase del mister di Marchionni noi abbiamo un unico obiettivo vince tutte le partite io ho detto anche nelle trasmissioni precedenti che poi diventa un po' il rischio dire questo perché poi quando pareggi ci sta di pareggiare qualche partita o magari qualche volta perdi allora rischi di venire che ci siano dei grammi cioè nel senso il Navarra è chiaramente e tanti lo dicono magari non lo pensano però lo dicono è la favorita numero uno è la corazzata magari per mettere anche un po' di pressione no? Sì da un lato è giusto dire certe cose dall'altro appunto come dici tu è rischioso è un po' murigno in questa esternazione francamente il Navarra ha già i riflettori puntati da parte di tutti secondo me il profilo basso potrebbe aiutarlo veramente in quell'impresa che loro sperano e che hanno tutte le carte in regola per poter centrare però sai essere la favorita numero uno vuol dire andare a giocare a volte anche su dei campi con le ultime della classe con tante pressioni come hai detto tu e a volte fai più fatica fai più fatica assolutamente sì fatica ne ha fatta relativamente il Gozzano Sabato perché ha vinto la partita contro il Ligona dopo aver preso un palo la traversa ha sbagliato un eccellente secondo tempo credimi assolutamente sì sentiamoci le interviste dopo questo 1-0 primo successo del campionato siamo con mister Schettino un tempo per prendere le misure un finale in crescendo un successo direi abbastanza meritato ma oggi contava vincere contava vincere perché nelle precedenti partite abbiamo prodotto tantissimo abbiamo creato veramente tantissime occasioni che non siamo riusciti a finalizzare quindi oggi al di là che il primo tempo sia stato meno brillante di altri va bene così ecco direi che ha centrato il punto ci sono anche elementi che hanno una capacità qualitativa di creare superioreità numerica palle importanti senza voler per forza dover parlare dei singoli ma sembra mancare uno stoccatore ma questo questa è una considerazione che lascia il tempo che trova abbiamo creato tanto e oggi complicevo qualcuno parla di sfortuna qualcuno di di poche capacità io credo che sia solo un momento e poi quando passerà probabilmente concretizzeremo con più facilità e mancavano ancora degli uomini però non davanti chiederà qualcosa sul mercato? no io fondamentalmente non chiedo niente lavoro con quelli che mi mettono a disposizione la società ha fatto ha allestito una buonissima squadra siamo contenti manca qualcuno ne siamo consapevoli qualcuno perché è infortunato e per il momento va bene così grande fiducia vedo nel suo gruppo che dimensione vuole dare al campionato del Gozzano è troppo presto? no è presto è presto le squadre che faranno il campionato di vertice sono diverse le avete già identificate tutte ne avete parlato un po' tutti che sono le solite note Varese Novara Casale Sanremese il Gozzano cercherà di fare un campionato all'altezza ecco io riparto dalle parole di Schettino come prima ero ripartito da quella di Marchioni il Gozzano cercherà di fare un campionato all'altezza di che cosa Fabrizio? all'altezza della sua tradizione della sua recente tradizione Gozzano vuole far bene in questo campionato vuole gratificare i propri sostenitori gli sponsor eccetera facendo un campionato importante poi quello che sarà lo vedremo Abbiamo fatto prima dei tifosi tu avessi anzi immagini di avere davanti la platea di Fede Rosso e Blu cosa vorresti dire? Vorrei semplicemente ringraziarli per il loro attaccamento alla maglia e sicuramente la nostra è una delle tifoserie più costanti nel tempo magari non abbiamo mai avuto rispetto ad altre parti dei picchi enormi di presenze poi dei vuoti assoluti è una tifoseria costante che va gratificata e ringraziata Quanto è stimolante una Serie D con il derby contro il Novara con il derby nuovo con l'RG Ticino con quello con il Borgosesia insomma il calcio è fatto anche di campanilismo di rivalità il calcio è lo sport ma è stimolante sempre questo campionato come tutti i campionati è chiaro che quest'anno c'è qualche sapore diverso qualche ingrediente che rende più speziato il piatto vedi il derby con il Novara che abbiamo già affrontato peraltro in Coppa Italia ma insomma i derby veri sono quelli del campionato e quindi non lo dico perché siamo usciti o abbiamo perso 2-0 però lo sanno anche loro insomma il campionato è un'altra cosa no? Fabrizio se ci rivediamo la classifica di Serie D c'è il Chieri che è in betta a punteggio pieno con 9 punti c'è il Casale che deve recuperare una partita e può salire a quota 7 dopo il pareggio nel turno di sabato e poi ci sono Sestri Levante e Lavagnese a quota 0 la duplice domanda che ti faccio è questa la tua favorita è comunque il Novara e chi può dare più fastidio al Novara attenzione dico sempre anche al Pondonats che è tornato all'antico con il ritorno di Kretas vedi siamo alla terza giornata lunedì prossimo avremo il conto della quinta giornata ottobre è un mese intenso perché è una settimana di stop e poi altra settimana con tre turni per darti una risposta concreta dovrei essere qui e lo sarò tra un mese e allora incomincerò a dirti quale sarà la fisione mia del campionato per il momento ti dico che come percezione è un campionato interessante e quello che ho visto sia sul campo che da remoto è abbastanza curioso stimolante vedo del bel gioco in altre parole ecco tornando invece a Borgossesia e a RG Ticino forse l'RG Ticino in queste prime età giornate è mancato qualcosa dall'avanti però un bottino di due punti secondo me D'Ano Promossa è un buon bottino ha fatto anche due partite fuori una in casa è neopromossa e paghi sempre lo scotto del noviziato di solito poi c'è anche l'anno della matricola terribile io sono convinto che l'RG Ticino possa fare ma lo confermerò anche questo tra un mesetto possa fare un campionato all'altezza delle sue ambizioni Borgossesi ha fermato al 94 o ti piace in una doc come allenatore Fabrizio poi ce lo sentiamo ma non l'ha mai fatto sostanzialmente l'allenatore io l'unica cosa che posso fare a Lunardom ma gliel'ho fatto peraltro prima della gara di Coppa Italia è un bocca al lupo per bagnare questa sua esperienza con una classifica positiva al termine della stagione commenti le interviste dopo l'1-1 tra Borgossesi ed Asti mister Montanarelli un pareggio per il suo Asti il terzo di questa stagione oggi partita molto combattuta da ambo le parti e che emozione è stata nel finale raccoglie a questo punto una grande emozione perché è arrivata l'ultimo istante e grazie a un esordio di un ragazzo del 2004 quindi sicuramente è stata una partita molto complicata molto sofferta però abbiamo dimostrato per l'ennesima volta il carattere di questa squadra e penso che alla fine sia stato un pareggio anche meritato una partita molto combattuta con tanta garinta da tutte e due le parti voi siete stati bravi a restare in partita perché il Borgossesi ha avuto la palla per chiuderlo è stato bravo il vostro portiere e da lì si è gettata la base per questo punto sì assolutamente secondo tempo noi subito il gol abbiamo fatto qualche cambio molto offensivo ci siamo esposti a qualche contropiede importante fortunatamente siamo rimasti in partita è vero anche che prima del nostro gol abbiamo avuto qualche opportunità importante però abbiamo dimostrato ripeto un carattere voglia di lottare voglia di stare in partita fino alla fine poi ci ha premiato questo grande gol di questo ragazzo bene così mister Manuel Lunardone siamo a commentare un secondo pareggio consecutivo per il Borgossesi a tanto rammarico soprattutto per le occasioni sprecate sì è un peccato è un peccato perché la partita ce l'avevamo in pugno e è un episodio ci ha condannato ma i ragazzi hanno fatto una grande gara devono portarsi a casa quello fatto oggi i rimpianti maggiori sono proprio per non essere riusciti a trovare questo gol del raddoppio dopo una prestazione che ha dimostrato grande grinta e c'è stata la ripetizione appunto della voglia messa contro il Novara i ragazzi stanno lavorando bene ma io sono contento il secondo gol non è venuto sì è vero però abbiamo creato tante occasioni abbiamo giocato contro una squadra comunque organizzata esperta devono continuare a lavorare come stanno facendo devono tenere sulla testa perché questa è una batosta perché se meritavano questa vittoria non devono essere sconsolati devono lavorare come stanno facendo mercoledì non altri devono stare collegati perché bisogna fare un'altra grande partita abbiamo un'eccellenza adesso che dobbiamo andare di corsa prima di vedere la partita del Borgo Vercelli che ieri non abbiamo fatto vedere in Domenica Sport un'eccellenza dove c'è qui sì una grande favorita Fabrizio Calabiellese sì intanto però in vetta vorrei sottolineare l'impresa dell'oleggio che dopo 30 anni ha il record storico di punti e quindi stiamo parlando dell'oleggio di Fernando Foglio e non di altri oleggi permettimi il plurale e chiaramente per ritornare al record di punti attuali bisognerebbe ritornare molto indietro neanche all'epoca di Manzetti perché non aveva iniziato così bene vittoria ancora contro il Bavino con Valgini ancora protagonista vediamoci questo Borgo Vercelli e Greville primo successo in campionato della squadra di Moretto è all'aldo è all'aldo vigino che il Borgo Vercelli cerca i primi tre punti del campionato contro l'Aigreville Calcio al primo minuto subito una punizione per il Borgo Vercelli che viene respinto dalla difesa una conclusione che finisce comoda nelle mani del portiere pochi minuti dopo l'Aigreville Calcio cerca di impensierire la difesa di casa con una conclusione che però finisce alta sopra la traversa è sempre l'Aigreville a manovrare con Dane con un suggerimento che però finisce comodo tra le braccia del portiere Bonassi al 27esimo minuto Rognone viene ammonito per questa rimessa laterale ammonizione che successivamente si traduce in un'espulsione per proteste al 40esimo punizione forte di Cuneaz che si infrange contro la barriere neanche un minuto dopo al limite dell'area di rigore viene commesso un fallo che si traduce in una punizione che finisce alta sopra la traversa poco prima della fine del primo tempo Canino e Petrillo combinano in acrobazia nel gol che si traduce nel momentaneo vantaggio dell'1-0 per il Borgo Vercelli riprende così il secondo tempo con gli uomini del Borgo Vercelli che si ritrovano in 10 e in vantaggio di 1-0 parte forte la formazione ospite che da calcio d'angolo cerca di impensierire la difesa di casa con un tiro che si infrange sul difensore si dovrà attendere fino al 41esimo del secondo tempo per l'assist di Bettini e l'incornata vincente di Canino che firma il raddoppio del Borgo Vercelli finisce dunque sul 2-0 la partita che assicura i primi tre punti del campionato ai ragazzi di Gregori Moretto ai danni dell'agreville calcio e dunque ringraziamo Marco Lasagna per il servizio una boccata all'ossigeno importante per il Borgo Vercelli che è stato condizionato da un'infinità di infortuni squalifiche in queste prime quattro giornate si può giocare sempre in 10 in questa fase sembra quasi che si autopenalizzi però certamente quando rompi il ghiaccio è fondamentale e quindi si può risalire la china con grande determinazione Gregori Moretto intanto ha dato via Zenga che è approvato all'ostresa le interviste del dopo partita i tre punti i tre punti ci servivano come il pane sono arrivati forse nella partita inaspettata dove per l'ennesimo arbitraggio contro ti ha penalizzato dove comunque non meritavamo di vincere ma lottando con i denti hai portato a casa analizzo le cinque partite fino ad oggi questa è quella dove hai faticato se ti sei difeso per 90 minuti hai sfruttato due palline attive e hai portato a casa il risultato detto questo è la quinta giornata che io vedo cose dalla terra arbitrale che non mi stanno più bene io non piango perché la prima cosa che dico ai ragazzi è che chi piange è un debole però ora basta perché alla quinta giornata è il quinto episodio che ci gira contro ci vuole rispetto rispetto per una società che comunque investe io non voglio favoritismi perché non dico questo però voglio le cose fatte come si devono analizzate ancora voi visto che avete i video l'espulsione che è stata data a Rognone è a dir poco vergognosa ora basta basta perché mi sta bene la prima mi sta bene la seconda giornata ogni domenica ce n'è una e no non mi sta più bene non abbiamo fatto una cattiva partita sul piano del gioco siamo stati poco convinti questo è un nostro piccolo difetto che quando dobbiamo fare il salto di qualità nelle parti importanti del campo a non prendere a far gol manchiamo purtroppo oggi è stata una giornata un po' storta e dobbiamo ripartire io conosco solo un modo e bisogna lavorare lavorare dunque queste le due parole dei due allenatori accuse pesanti nella parte di Moretto accuse constatazione giusto farlo quando uno vince secondo me sì Moretto lo reputo prima di tutto un ragazzo serio poi anche un allenatore in gamba quindi secondo me quello che dice è sempre basato su un fondamento reale ha detto delle cose che condivido dopo la pubblicità ci vedremo Stresa Accademia che era un po' il big match della giornata due squadre che possono ambire entrambi ai playoff e magari a provare a rompere le scatole passando il termine alla biellese ma io sono convinto che le romperanno le scatole alla biellese quindi sicuramente bisognerà attendere questi campionati poi sono campionati particolari come tutti i campionati si decidono in primavera ma nei dilettanti anche la pausa può avere una sua influenza anche il mercato di dicembre può avere un suo peso quindi io sono convinto che sia i rosso-blu che gli azzurri possono dare fastidio alla biellese la biellese è favorita però come dicevamo prima per il Novara a volte essere favoriti è un fardello troppo pesante da portare parlavi del record negli ultimi 50 secondi prima della pubblicità dell'Oleggio 13 punti in 5 giornate magari un pensiero nel playoff cominciano a farlo l'Oleggio ha una società seria un valido allenatore un buon gruppo squadra perché non avere in testa questa così questa velleità poi magari non la comunichi te la tieni per te però intanto se devi andare a giocare all'Oleggio fai fatica se lo affronti in casa hai dei problemi e passi in passetto può essere alla sorpresa del campionato non solo di questo avvio assolutamente sì invece il Bavino è un po' in difficoltà dopo un buon avvio con i 4 punti Fabrizio facciamo una cosa adesso andiamo per un paio di minuti o forse più in pubblicità poi torniamo qui per parlare di eccellenza e di promozione a tra poco di nuovo insieme dunque dopo la pubblicità eravamo in debito del servizio di Stresa Accademia andiamo a vedere l'1 a 1 finisce 1 a 1 il big match di giornata del campionato d'eccellenza fra Stresa e Borgomanero partita veramente aperta su un campo difficile a causa della pioggia caduta in mattinata la gara si è aperta con la consegna di una maglia celebrativa per il capitano dello Stresa Mattia Frascoia che con la gara contro l'Accademia ha raggiunto le 100 presenze con i blues la prima occasione capita al terzo ed è per lo Stresa scatto sulla destra di Secci che entra in area di rigore e prova il diagonale l'esterno chiude troppo il tiro e palla che termina a lato al quindicesimo risponde l'Accademia schema calcio di punizione battuta sulla tre quarti Pagliaro premia l'inserimento di Debel sulla destra palla sul secondo palo per Samina palombella sul palo opposto fuori di poco al diciannovesimo la gara si sblocca rimessa laterale battuta veloce che sorprende il centrocampo dello Stresa palla Puskaric che pesca l'inserimento di Modena traversone perfetto per la corrente Poletti che calce di prima intenzione e palla che si insacca nell'angolino alla sinistra di Barantani ma giusto il tempo di esultare e di portare la palla a centrocampo che arriva il pareggio dello Stresa azione insistita pallone dalla destra per secci che in piena area di rigore effetto una splendida mezza girata al volo che scheggia il palo interno e si insacca nella ripresa la prima occasione dell'Accademia si fionda sulla palla a Puskaric che sembrava morte anticipa Manfroni supera due avversari e si libera al tiro non riesce però a dare potenza alla palla e Barantani la blocca sul primo palo al diciossottesimo la risposta dello Stresa calcio di punizione dal vertice destro dell'area di rigore di Frascoia facile preda di Galli al ventesimo la partita si infiamma occasione Stresa azione insistita dei blues con secci che raccoglie palla al limite dell'aria tiro ribattuto per i giocatori dello Stresa con un braccio azione da rivedere palla per il neo entrato Belloci palla a lato di poco al ventiquattresimo occasione Stresa sugli sviluppi di un calcio d'angolo palla in aria per Zenga colpo di testa non lontano dall'incrocio trentacinquesimo decisione decisamente da rivedere dell'arbitro che fischia un fallo al limite dell'area di rigore per l'Accademia mentre Pagliaro si stava involando verso la porta difesa da Barantari con il vantaggio sarebbe stata un'azione decisamente pericolosa al trentaseiesimo occasione Accademia su calcio d'angolo di Bonicelli svetta Bacalone palla a lato di un niente al quarantatresimo incomincia il finale tutto dello Stresa calcio di punizione dal limite di Frascoia proprio dalla sua mattonella tiro debole piuttosto centrale respinge di pugno Galli al quarantottesimo l'ultima occasione della partita veloce ripartenza di Secci sulla sinistra che salta l'uomo si accentra gran botta Galli respingi distinto da buona posizione Anchisi di testa manda a lato un pareggio che forse sta stretto allo Stresa ma che consente a tutte e due le formazioni di muovere la classifica una volta più positiva mi dicevano i dirigenti delle due squadre la presenza di pubblico 254 spettatori non è mica una cosa da ridere di questi tempi alla ripresa poi attenzione c'è un dato di fatto da considerare in questo ultimo anno e mezzo c'è stato uno scollamento da parte del pubblico che generalmente anche un pubblico vecchio che si è abituato anche a stare a casa a vedere le partite su da zone eccetera il richiamare numerosi spettatori allo stadio non è cosa da poco da sotto nei dilettanti è una battaglia dura insomma riavere il pubblico che si aveva pre-covid non sarà facile richiederlo secondo me del tempo sicuro sicuro bisognerà valutarlo appunto come hai detto tu almeno questa primavera del tempo come anche un altro paio di anni Fabrizio ma per vedere qualche esito secondo me è un po' meno però sicuramente per il pubblico di prima sì sono d'accordo le interviste di Stessa Accademia Frascoia incominciamo proprio dall'inizio di questo match 100 presenze con la maglia dei blues che sensazione hai avuto è una maglietta celebrativa proprio per ricordare questo evento sinceramente non sapevo neanche 100 presenze però è sempre un piacere perché alla fine il quinto anno che sono qua è bello poi è una famiglia quindi poi ogni anno il livello è sempre della squadra sempre di più e via tu come ti senti parlavi della squadra ma tu te ne senti di fare altre 100 100 no però 50 sì ancora sì veniamo alla partita è stata una vera e propria battaglia una gara a viso aperto affrontata da tutte e due le squadre forse meglio l'Ostresa nella seconda frazione di gioco che cosa è mancata il gol però sì due squadre se la sono giocata volevano vincere tutte e due un pari non serve a niente adesso è presto per dire però è stata una bella partita perché è venuto a vederla poteva vincere il Borgognero come l'Ostresa cambia qualcosa in termini di classifica come dicevi tu è presto per tirare le somme però l'Ostresa sembra avere ingranato anche in termini di gioco quella che è la strada corretta per questo campionato ma sì lo sappiamo già dal primo giorno che siamo trovati la strada era già quella Borgognero non Borgognero andiamo avanti così piano piano andiamo avanti l'importante è un punticino va bene muovi la classifica e via poi c'è un problema degli altri Poletti un bel gol poi l'Accademia Borgognero ha tenuto botta nella prima frazione di gioco forse è mancato qualcosina nella ripresa però tutto sommato un pareggio che muove comunque la classifica sì abbiamo fatto una buona partita abbiamo sofferto un po' le finali del primo tempo e un po' quasi tutto il secondo tempo però alla fine poche occasioni loro abbiamo avuto anche una grossa occasione noi dove l'abito secondo me ha sbagliato anche perché se dà il vantaggio facciamo il 2 a 1 però per i ragazzi secondo me è un pareggio onesto un pareggio giusto siamo contenti anche perché torniamo anche sulla tua prestazione su un campo così non è stato nemmeno facile disputare la partita però esalta le tue caratteristiche infatti risulti fra i migliori in campo oltre al gol per la tua squadra sì diciamo che oggi il campo era abbastanza pesante penso che sia stato un po' pesante per tutti però alla fine abbiamo fatto una buona prestazione secondo me a tutta la squadra oltre che a me tutti abbiamo giocato bene comunque parole all'insegna del fair play da parte sia di Frascoia che di Poletti tra l'altro secondo me ha mentito Frascoia ne voglio fare altre 50 allora ne fa 25 quest'anno anzi 30 quindi ne farà quasi un centinaio si vede che appunto mentiva sapendo di mentire comunque mi associo anche io ai complimenti da parte della società stresa Frascoia che ha giocato nel Gozzano tra l'altro e che è un amico e che stimo tantissimo come giocatore Verbagna Biellese che vince 3-1 a Pedroli servizio interviste possiamo definirla oggi a tapin vincente la partita che si è disputata sul campo del Pedroli tra il Verbagna e la Biellese ma passiamo subito alla cronaca ottimo inizio per la Biellese che prova a mandare già da subito la palla in rete con Nama del numero 11 siamo appena al quinto minuto ma l'azione finisce con un fuorigioco all'ottavo minuto la squadra di Rizzo trova il via per segnare azione su calcio piazzato precisamente su calcio d'angolo ma la palla ancora non vuole andare in rete e arriva al tredicesimo minuto i rossi ci riprovano con Panatti e sembrano aver trovato l'occasione di mandare questa palla in porta ma ancora l'azione non si conclude con un gol con un punto al diciottesimo minuto Lipari fa sognare i Verbanesi provando a siglare il primo gol di sblocco ma Rai Nero portiere della squadra avversaria riesce ad intercettare questo pallone al ventitresimo minuto arriva l'occasione di segnare per i rossi di Biella ma i bianco cerchiati riescono a evitare di subire il gol grazie alla prontezza di Chiodi nel bloccare quest'azione al ventisettesimo minuto del primo tempo Namad della squadra di Biella conclude l'azione iniziata da Barbelli portando a segno il primo punto di questa partita 0-1 per la squadra di Biella al ventinovesimo minuto Lipari cerca di portare il gol per arrivare al pareggio ma non riesce a centrare la porta al trentunesimo minuto arriva l'occasione per la squadra di Rizzo di segnare il secondo gol e di guadagnare il distinto vantaggio di più due sulla squadra avversaria ma il tiro non va a segno e il risultato rimane invariato però l'occasione arriva verso la fine del primo tempo di segnare questo distinto vantaggio del più due sulla squadra di casa poiché arriva un'occasione che viene colta al volo da Namad che manda la palla in rete segrando il più due sulla squadra avversaria passiamo al secondo tempo al sesto minuto la squadra ospite prova a segnare il terzo gol di vantaggio ma Chiodi riesce a mandargli in fumo questa occasione di segnare ed ecco che al nono minuto Cerutti si carica e segna il primo punto per il Verbania sicuramente questo è un ottimo colpo per il morale della squadra verso la seconda metà del secondo tempo precisamente al ventottesimo minuto la squadra alla Custra sfuma di poco il pareggio ma la palla supera la traversa e quindi il risultato rimane invariato la squadra di Porco subisce un duro colpo con l'espulsione su doppia munizione di Apollini e al trentaquattresimo minuto Artiglia della squadra di Biella trova la via per siglare il terzo gol e grazie ad una strepitosa fucilata riesce a mandare la palla in rete quindi la partita si riconclude con il risultato di 3 a 1 per la biellese sui Verbania Calcio qui in questo momento con mister Rizzo della biellese allora oggi ottimo risultato un giudizio sulla partita come mi aspettavo una partita che non è stata per nulla semplice l'avversario ce l'aspettavamo così il grintoso è organizzato e come dire abbiamo fatto un buon primo tempo che ci ha portato in vantaggio 2 a 0 poi abbiamo come dire approcciato il secondo tempo in una maniera un po' morbida e la partita serie è aperta però poi siamo stati bravi a chiuderla con Artiglia e portare a casa un risultato importante Sono qui in questo momento con Luca Porcu mister del Verbania Calcio possiamo dire che anche a prescindere dal risultato della partita di oggi vediamo una squadra sempre più in crescita soprattutto con il primo gol da parte di Cerutti che ha fatto ben sperare Sì sono contento per il ragazzo si è sbloccato ci teneva tanto sicuramente questo potrà aggiorare alle sue prestazioni future Sì una buona prestazione ma che non ci ci lascia poi con un pugno di mosche finiamo con zero punti rimane la buona prestazione sicuramente contro una squadra di vertici probabilmente la favorita numero uno per la vittoria finale un applauso ai ragazzi ancora oggi sicuramente forse un inizio un po' timoroso se ci avessimo creduto più fino all'inizio probabilmente paghiamo a caro prezzo gli errori individuali che purtroppo si sono tramutati poi in gol è tutto legato al fatto che la squadra è molto giovane sicuramente imparerà dai propri errori e sono straconvinto che non commetteremo più appunto delle esattenzioni italiane qui con me c'è Cerutti del Verbania che oggi ha fatto ben sperare sul 2-0 quando ha segnato il primo gol per il Verbania portando a 2-1 allora ce lo vuoi raccontare? ma è stata un'azione che abbiamo provato e riprovato perché Sistino ce l'ha rimessa lunga in mezzo all'area di rigore spizzata e la seconda palla mi sono fiondato sopra e è arrivato il gol abbiamo provato a riaprirla e ci abbiamo provato fino alla fine ma abbiamo avuto un po' di sfortuna ecco Senti ma a prescindere dal risultato vedo che il morale si sta alzando e comunque è una squadra sempre più in crescita Sì sì assolutamente sì è una squadra che comunque oggi lo abbiamo dimostrato abbiamo lottato fino all'ultimo secondo abbiamo provato a ribaltarla a raggiungere il pareggio non ce l'abbiamo fatta ma comunque si vede che la squadra sta crescendo anche se siamo molto giovani Volevi aggiungere qualcosa Fabrizio? No guarda ho seguito con molta attenzione il servizio di Manuel Pellegrini dico bene perché ha avuto due passaggi che mi sono piaciuti allora narrano quelli che se ne intendono che il miglior telecronista di lingua italiana non era italiano era Giuseppe Albertini che era un ticinese nel senso che usava dei neologismi dei passaggi durante le sue cronache davvero interessanti ne ho notati due quello dello sblocco eccetera ma mi è piaciuto questo servizio mi è piaciuta un po' meno la sconfitta del Verbagna purtroppo e anche vedere quello stadio con poche persone sulle gradinate torniamo al discorso di prima c'è un puglio al cuore insomma io sono tanti anni che sono qui mi dispiace vedere così poco entusiasmo intorno al Verbagna hai ragione Fabrizio è una figlia di tempi forse la situazione abbiamo parlato tante volte però insomma vediamo se veramente in primavera torna un po' di gente e se poi recuperiamo ma questo non vale solo per Verbagna come viene no vale per tutti per tutti gli sport ne ho discusso ampiamente nel corso della settimana allora andiamo adesso in promozione perché ieri c'era un big match quello tra Rona e Bellinzago insomma la prima volta che ha mostrato i muscoli il Bule Bellinzago dopo un inizio un po' titubante la Rona era primo senza sconfitte percorso netto invece ieri ha dovuto soccombere contro i Tigrotti che si sono imposti 3 a 0 nel match della verità il Bule Bellinzago mostra gli artigli i Tigrotti dominano la partitissima con la Rona infliggendo ai Laquale il primo K.O. della stagione già al primo minuto Romano costringe l'attento Lorenzo a mandare in angolo un minuto dopo risponde Maio che di testa manda sopra la traversa ancora il giovane portiere del Bellinzago si fa notare per un salvataggio di testa in tufo fuori area poi va alto un colpo di testa di Romano il Bule passa al venticinquesimo Capacchione appena dentro l'area con un secco destro sorprende tornatore sul primo palo la Rona reagisce Valsesia ispira Cosentino smista al 34esimo minuto un pallonetto di Romano sfiora l'incrocio ma dall'altra parte Capacchione è una spina del fianco e al 40esimo impegna ancora tornatore che due minuti dopo alza con qualche affanno un tiro di Repossini ancora Romano si libera bene ma calcia fuori dopo un gol di testa di Rogora annullato per carica al portiere il Bellinzago raddoppia al decimo minuto con Repossini che tutto solo non ha difficoltà a deviare in rete e di testa un cross dalla destra del solito Mangolini Ragazzoni cerca di inserire forze fresche e al 29esimo Ghiotti arriva con un attimo di ritardo sul cross di Cosentino ma è un fuoco di paglia al 32esimo il Bollet cala il Tris ancora Mangolini va via sulla sinistra cross sottoporta per la testa di Maio e titoli di coda anticipati dunque vittoria tra l'Azio del Bellinzago nel posticipo chiamiamolo così due a due tra Cossato e Sparta Novara il Briga ne ha fatti cinque a Sizzano come ho già detto nelle precedenti trasmissione è un campionato di promozione davvero molto molto equilibrato non c'è una squadra che potrà ammazzare il campionato ma ce ne sono sette e otto che possono puntare a vincere tra l'altro debutto vincente del nuovo allenatore della Giudomo Gervasoni dopo le divisioni di Morellini che con una doppietta di Progna ha vinto 2-0 a Borgossesia con i Valluggia a noi piacciono i campionati interessanti equilibrati non i campionati monotoni per cui auguriamoci che effettivamente se il buongiorno si vede dal mattino sarà così Briga Sparta Bule delle Novaresi qual è quella che Arona Dormelletto ce ne sono cinque di Novaresi in questo campionato mi dai sempre un mese per poterti eh però sbiraciti prima beh il Bule è messo bene bisogna decifrare la Sparta e poi insomma dammi un mesetto perché ci sono ancora troppe cose da mettere a fuoco intanto c'è chi è iniziato prima la preparazione chi l'ha iniziata dopo chi è andato sulla rapidità chi non ha avuto infortuni in preparazione chi ha avuto un calendario e un approccio alla stagione diverso rispetto a un altro possiamo dire che la grande delusione è il Vigliano io l'ho vista ieri insomma il Vigliano era partito per vincere a quota zero diventa dura a recuperare bisogna vedere se loro sono convinti di poter vincere perché insomma quota zero adesso vuol dire che devi fare altri pensieri eh bravo le interviste del derby insomma è stato anche un po' così burrascoso no questo piedi Molera-Vogogna con alcuni accenni di ris insomma è stato il classico derby piedi Molera-Vogogna ossolano eh derby ossolano le interviste direttore un commento sulla partita di oggi è stato un derby quindi è stato comunque acceso rovinato nel finale da una baruffa inutile per il resto era stato combattuto sanzionato il giusto secondo me al di là degli episodi che ci hanno sfavorito e che vanno e vengono non mi sembra neanche il caso di giudicare l'arbitrato però noi abbiamo fatto la nostra prestazione abbiamo mancato dell'occasione sottoporta il piedi Molera ha fatto la sua partita e il calcio è questo sì una partita che è partita nel modo migliore per voi vi siete portati sull'1-0 poi forse avete pagato troppo a caro prezzo la risposta del piedi Molera poi nel secondo tempo forse avreste meritato qualcosa in più con anche la traversa colpita e tante occasioni da gol diciamo che siamo partiti bene come hai detto abbiamo fatto un gol e ne abbiamo regalati due nel momento che dovevamo gestire la partita abbiamo messo in condizione l'avversario di ribaltare il risultato è inutile attaccarsi al fatto del rigore che c'era o non c'era se noi non regaliamo la situazione l'arbitro non è indotto all'errore quindi la colpa prima di tutto è nostra ci sta di subire un rigore nel momento che dovevamo invece gestire la partita al secondo tempo siamo entrati bene in campo abbiamo avuto parecchie occasioni il piedi Molera giustamente si era accolta e partiva in contropiede non ricordo corregimi se sbaglio delle grosse occasioni comunque anche in contropiede il risultato poteva essere giusto il pareggio magari posso sembrare di parte dire che addirittura mi sembrava stretto per quello che abbiamo creato nel secondo tempo però il calcio è questo arriveranno partite in cui faremo magari un tiro in porta vinceremo 1-0 e si lamenteranno gli avversari Mister un commento sulla partita di oggi è stata una partita non bella difficile vedere delle partite dove c'è anche la tensione di un derby che sono belle secondo me è stata una partita tesa giocata discretamente nel primo tempo dopo che siamo andati in svantaggio ci siamo messi a giocare con più raziocinio e siamo riusciti a ribaltare la partita giocando secondo me anche discretamente in quel frangente non bene il secondo tempo perché ci siamo abbassati un po' troppo abbiamo consentito loro di giocare chiudendoci un po' nella nostra metà campo e abbiamo rischiato di di pareggiarla perché abbiamo concesso anche due o tre occasioni importanti il Vogonia ha giocato con il cuore nel secondo tempo come ci si doveva aspettare e siamo stati noi che non abbiamo gestito bene quella fase della partita sapevamo di non essere in ottime condizioni per varie ragioni oggi e quindi che avremmo patito alla lunga una partita tesa nervosa come sempre un derby però potevamo gestire sicuramente meglio il secondo tempo un commento sull'episodio finale spero che sia d'accordo con me sono scene che non si dovrebbero mai vedere in un campo da calcio assolutamente assolutamente io sono arrabbiato per quello che è successo perché noi siamo usciti da quell'episodio con l'espulsione di un giocatore che ha fatto 50 metri di corsa per andare nel punto in cui c'era l'episodio della risa e anche se non ha fatto niente di particolarmente grave o di più grave rispetto a quello che stava succedendo o è successo resta una sciocchezza che paghiamo caro e che ripeto è assolutamente è stata assolutamente inutile come è stato inutile tutto l'assembramento che si è creato c'era un fallo abbastanza evidente una trattenuta e un placcaggio abbastanza evidente che doveva concludersi con una munizione per l'avversario ne è venuto fuori un episodio contrario e anche poco edificante poco educativo poco serio e non mi è piaciuto assolutamente bravo sia Bonan sia Francina tutte e due hanno usato parole termini corretti Francina potrebbe anche appellarsi all'alto diciamo che sicuramente scusami se ti ho interrotto ma stavo pensando proprio questo un conto che queste sfide abbiano del pepe un conto che abbiano della dinamita e sono due cose completamente però mi sono piaciute sia le dichiarazioni di Fabrizio che non ha cercato scuse con l'arbitro che ha dato un rigore che poi abbiamo visto essere molto molto dubbi poi Bonan è sempre signorile nelle sue cose Bonan è sempre Bonan certo però bravi sia Fabrizio sia Roberto insomma due entrambi assolutamente bravi due uomini di calcio che hanno dimostrato di essere uomini di calcio assolutamente in queste interviste al di là di quello che è successo in campo Lomenia che batte il Vigliano 1 a 0 ho letto della grande delusione Vigliano invece Lomenia un po' come il Piedi Molera ha partito con un punto in due partite il Piedi Molera aveva perso male in Coppa aveva perso il campionato entrambe una a 7 e l'altra a 9 punti adesso iniziano a pensare in grande Lomenia Vigliano Lomenia bisse all'1 a 0 di Vogonia e con lo stesso risultato supera a liberazione il Vigliano sale a quota 8 alla formazione di Tavozzi rimane invece ancora al palo quella di Uriezzo la cui di Arizzo la cui panchina traballa vistosamente nella partita succede poco nel primo tempo alla prima occasione passa Lomenia il 28esimo e Cherchi su una palla vacante in area il più lesto di tutti deviazione vincente anche con l'aiuto di un avversario al 31esimo il destro di Motetta dalla distanza fasso respinge di pugno al 32esimo ripartenza del Vigliano con Coppo il suo diagonale termina a lato di poco al 42esimo l'unico squido del match di Cabrini destro a giro dai 25 metri che si stampa sulla traversa nella ripresa al 12esimo è Motetta ad avere sui piedi la palla del 2 a 0 ma la sua conclusione è imprecisa al 20esimo Cabrini troverebbe il gol dell'1 a 1 con un piatto nell'angolino ma l'assistente giudica la sua posizione irregolare alzando la bandierina al 32esimo scambio De Ponti Elca tiro debole e centrale è l'ultima emozione del match che Lomenia tutto sommato vince 1 a 0 con merito Omegna Piedimulera Juve Domo ti ho parlato prima delle Novaresi delle squadre del VCO che vedi meglio no al mese no e basta al mese allora vedo bene il Piedimulera ti piace è così perché siamo i coi di buon anno ma perché mi sta simpatico il presidente non che gli altri assolutamente mi stiano simpatici ci mancherebbe altro tanto di cappello sia alla Juve Domo che all'Omenia che sono società storiche ma visto che mi hai chiesto di buttarne giù due dalla torre oggi giorno di San Francesco 4 di ottobre patrono d'Italia e quindi anche dell'Ossola sostanzialmente oggi dico Piedimulera poi tra un mese magari ti dico il contrario allora l'intervista a Davide Tabozzi dopo l'1-0 sofferto ma meritato contro il Vigliano seconda vittoria consecutiva in campionato per l'Omenia 1-0 contro il Vigliano direi un'Omenia pratica che non ha rischiato praticamente nulla dietro mister era una vittoria però meritata era ora che non rischiavamo perché a furia di rischiare poi provo anch'io a mettere un po' qualche cerotto oggi era una battaglia perché quando ci sono i campi pesanti così i ragazzi lo sapevano hanno fatto quello che dovevano così prendono un po' di autostima che ne hanno bisogno perché loro non hanno ancora quello che voglio io ma adesso sta arrivando un po' di fiducia sono forti devono pensare che sono forti poi dopo poteva segnare il Vigliano sulla traversa di Cabrini abbiamo segnato noi ma chi faceva poco al per primo oggi vinceva perché era una lotta ho visto l'esultanza a fine partita il gruppo selvaggio il mucchio selvaggio in mezzo al campo questa era una partita che poteva essere un po' lo spartiacque tra pensare in grande ragionare in grande e invece non farlo ma no non è ragionare in grande è essere squadra punto bisogna essere squadra le partite poi ripeto l'episodio perdi vinci però se sei squadra ti tiri fuori dalla palude a proposito di palude sette punti in classifica dopo quattro giornate non hanno ancora segnati gli attaccanti questo è un segnale di ottimismo perché prima o poi i gol dei con parole ad Elka arriveranno ma certo che arrivano poi loro sono più arrabbiati di me perché non lo fanno però oggi Elka è andato a prendersi una palla sulla bandierina quando il capitano fa quello a posto non è nulla da dire allora no niente anzi li faccio festeggiare con le parole di mister Tabozzi gli ultimi tre minuti volevo chiederti anche le impressioni su Schettino che a me piace molto come persona ecco ho già detto tu 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 mi hai anticipato stavolta che potevo parlare mi hai stoppato sì intanto non è un neofita perché lui aveva già allenato aveva già allenato una prima squadra ce lo ricordiamo a Varallo Pombia ha fatto anche molto bene nell'eccellenza di allora che mi permetto di dire aveva una certa qualità uno spessore tecnico non indifferente è molto preparato entusiasta sal fatto suo e secondo me saprà cogliere al volo e in maniera opportuna fino in fondo quella che è stata l'occasione che il Gozano gli ha fornito Fabrizio l'anno scorso hai mascherato fino alla fine l'obiettivo della promozione quest'anno l'obiettivo l'hai detto prima è fare bene un pensiero ai playoff il Gozano comunque lo fa devo sempre andare a prendere la maschera dell'anno scorso però se è un obiettivo se è un ma sicuramente più in alto si arriva meglio è per il Gozano quindi oggi che abbiamo solo disputato la terza di campionato dobbiamo avere la testa sgombra e guardare con serenità al futuro per cercare di fare il massimo possibile poi quello che sarà il massimo lo vedremo cammin facendo hai parlato bene di Bonan hai sottolineato la bravola di Tabozzi delle categorie minore quindi dell'eccellenza in giù qual è l'allenatore che ti stuzzicherebbe e dici ok meriterebbe una chance su una panchina importante in una categoria importante ma ce ne sono tanti tanti anche che questa chance magari l'hanno avuta e non l'hanno sfruttata prima abbiamo visto tutti quelli intervistati sono allenatori che io stimo da Gregori Moretto ad Alberto Rizio che è stato entrambi sono stati i miei giocatori abbiamo visto il Borgomanero contro lo Steris a Giorgio Rotolo a Stresa chiaramente l'allenatore del Borgomanero che è molto valido anche se hai detto tutti va Fabrizio insomma ce ne sono tanti bravi ce ne sono tanti bravi e a loro auguro il miglior futuro possibile e al nostro calcio auguro attraverso loro veramente una stagione come si deve grazie Fabrizio Leonardo per essere stato qui direttati per dire tornano di prossimo nella versione classica grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.